In montagna in questo periodo ci si va soprattutto per un motivo. Per trovare un po' di fresco. E a Sassotetto, in provincia di Macerata, il fresco non si è fatto attendere a lungo. Arriva la pioggia. È finita la scampagnata, arriva la pioggia, quella che cerchevamo da tanto tempo. In queste giornate di AFA, con temperature sopra la media, c'è chi cercando ristoro tra i monti ha trovato la pioggia. Vediamo dove non piove e ci fermiamo. Peccato le nuvole, ma va bene. L'allerta gialla per temporali, prevista per il 17 agosto, ad alta quota si è fatta sentire in anticipo. Ma non ha rovinato la giornata ai turisti a caccia di temperature più basse. È un'ottima meta consigliata per tutti. Chi vuole respirare, che sta in città, sicuramente, all'AFA. È una settimana che siamo qua per respirare l'aria pura, per stare freschi. Caldo, ormai è stancato, quest'oggi ci veniamo a refrigerare. Ho scampagnata, abbiamo girato un po' quello che è Sarnano e poi siamo venuti qui a Sassotetto. Tra picnic, trekking e aria fresca, la montagna si dimostra fortemente attrattiva, per la gioia degli albergatori e degli esercenti che arrivano da un inverno senza neve. Per agosto è stato veramente pieno. Anche l'albergo ha avuto le sue presenze. Per fortuna, dopo mesi che non vedevamo nessuno con un inverno senza neve e con poco turismo, finalmente sono 20 giorni che si è mosso molto, molto bene.